E sono arrivati altri ospiti andiamo a vedere chi è e chi è E' questa la festa? Ma se non sai questo? Ma vabbè scusate ma chi è la più bella della festa? Aspettami chiesto è lo stesso amore E' un re, due, uno, set Piano piano, piano piano Ok ragazzi siamo arrivati alla festa Giada non sa nulla, non ha ancora visto nulla E ora entreremo e le faremo vedere tutto quello che abbiamo preparato Siete pronti? Giada sei pronta? Sì Oddio non vede nulla, non vede nulla Ok andiamo E adesso ci dirigiamo di là perché di là la soffesa Vai, siamo quasi arrivati Piano piano E ora Piano piano Apriamo gli occhi Partenza Via E' bello Ehi 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 Ancora non si può assaggiare perché gli invitati non si sono assaggiati Sì e poi sono tutti i nostri Buono buono Come per gli ospiti Ok guardate la prima di là Guarda Giada guarda che ti lascio qui Wow Buonissimo Buono Ok Possiamo mangiare No non potete mangiare nulla Ora aspettiamo gli ospiti E ti comincio con la festa Via Ok Giada sono arrivati i primi ospiti Andiamo ad aprire Sì Sono i primi Eccoli qua Ciao Eccoli qua Eccoli qua Ciao amore E voilà Ok I primi ospiti sono arrivati E ora aspetteremo ovviamente tutti gli altri Sì E sono arrivati altri ospiti Andiamo a vedere chi è E chi è E questa è la festa Ma sono salvo e giorgia Finalmente Auguri Non si spia nei regali Auguri signorina Quanti anni compi oggi? No è bravissima Molto spiaggia Che si fa? Si fa a mangiare? No non si fa a mangiare Sono venuto Voi dovete andare Ma non è vero scherziamo Ah possiamo entrare? Entrate Perfetto è arrivata un altro ospite La nostra superanita La nostra superatrice Sì Quindi non siamo ancora al completo Stiamo aspettando ancora un sacco di gente Ma ora l'altro giorgine Guarda che bello Mi manca già Mi manca una bimba Però è laggiù Niente la lasciamo mangiare lei No mi sono perso Scusatemi Per di là Per di là Per di là Ok ragazzi La festa ovviamente non è ancora iniziata Perché manca una parola Stacco di ospiti Ehi vai Ma a me non mi chiamate Ma io Ma posso dire Vabbè Ragazzi Ok Potete andare a giocare Libere Libere Allora ragazzi Presentatevi Sono arrivati altri ospiti Abbiamo Martina Francesco Francesco Elena Mamma e papà È arrivata Chloe 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 ti vuoi dare il regalino Lore 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 No vabbè Scusate Ma chi ha la più bella della festa? Sì Non arrivate La città La città La città La città E anche papà Ciao Ciao Presentiamo anche I nostri animatori fantastici Tu sei? Io sono Veronica Ciao Veronica Ciao Io sono Daniele Ciao Daniele Allora ragazzi È arrivata un'altra nostra carissimissima amica amici Eccola qua Adesso li trucchiamo tutti e poi ve li facciamo vedere ok? Tutti truccati Sì Anche chi non è truccato lo facciamo rivedere eh non vi preoccupate Sì 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 Il piatto da equilibrio Chi di voi lo conosce il piatto da equilibrio? Piattino 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 Eccolo Eccolo bellissimo Sonic cosa ne dici? Aspetta Eccolo Sì l'ultimo di cerchio e pronti partenza via vai 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 sei iniziata qui basso Zopi Zopi tutta una professionista e anche io sbaglio forza Anita siete bravissime Siki sentiti noi brava attenzione bravissimo un applauso bravissimi tutti rienta tutti bravo tutti bravi qui fermi tutti nessuno osi mangiare niente non toccate niente perché il buffet è così bello e io non ho ancora fatto nemmeno una foto quindi non potete mangiare niente mi raccomando state lì allora io prima no mi hanno detto che è tutto finto ragazzi attenti sono di pratica buonissimi ma anche ma anche scusate devo intervenire un'altra volta ragazze sembrate delle morte possiamo fare gli auguri un po' ma scusate ma chi è questa la presentatrice allora uno due tre auguri ok allora ci prepariamo per il gioco del limbo siete pronti? franchi franchi io volevo fare il bagno ma ho mangiato e stare in acqua fino a qua tu mi fai puoi dire che è mai entri a noi se c'è tutta la spiaggia che balla con noi ok si va stregar si va stregar a testata Ciao ragazzi ce la faranno secondo me questo cerchio è troppo grande mi fa un po' paura riuscirà Giada a farlo girare almeno due volte di seguito vedremo grazie a tutti Ehi, fermi tutti! Io voglio spiegare qualcuno! C'è! Pensi di battermi? Ma c'è! Non è sicuro perché non so fare neanche un giro! Ma c'è ancora la! Tre, due, tre! Si! Ma c'è questo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai, vai, vai. Noi proviamo... Servizio acqua? Questa bambina in realtà non vuole andare a scuola, quindi mi dice che ha manzicola. Ok, ci siamo al prossimo gioco e diteci cosa sarà il gioco dell'albero. Allora, questo si chiama il gioco dell'albero. Voi ci dovete aiutare ad attaccare le ponte. Vick di qua. E siamo già di Vick, ok? Il gruppo di qua attacca le mollette Vick di Vick. Ando via, ok? Allora, la sua via, pronti? Partenza? Via! Tutti i Pini qua, tutti i Pini qua, tutti i Pini qua, gli altri rimangono ben dippabili. Ok? Ok, adesso le contiamo insieme. Va bene? Vabbè? Allora, iniziamo a contare. Tutti insieme. Uno. Due. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Votto. 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 Dicionnove. No! Venti! No! Venti! Ah, guardali qua. Venti. 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 Ok. Pronti per Georgia? 3, 2, 1, via! Uno. Due. Guardali. Venti. La squadra di Giada! Venti. 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 Un momento torta! Venti. 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 Allora, li metto qua di fianco a voi. Posso Giada? No. Fare la bambina piccola sia? Sì. Adesso c'è il taglio della torta. La taglierà Giada? No. Forse no. Sì. me viene giupato a fraccus, però adesso vediamo. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a sana, tanti auguri a te. Mi scolso mi scolso di un re, due, uno e un re. Happy birthday to you Sì è il mio è il mio Chloe, Stefano e Aura una bellissima tuta grazie bellissimo grazie 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 guarda che hanno di Giorgia belle bombe da bordo bellissimo altre bombe bu schiglia maschera del no no ma c'è è pieno di roba qui guarda dentro cosa c'è mistero mistero nooo grazie 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 poi stasera ci trucchiamo insieme grazie mille grazie signor in kitchen è uno squishy facciamolo vedere da vicino guardate che belli grazie 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 don't bello da gargine da Palina e da Giada da Giada da Giada da Giada per Giada va bene quindi da Martina e Francesco guardate che opera d'arte c'è ancora un pezzo bellissima carta la carta grazie poi li metto via io in borsa e anche questo è per me facciamo vedere guardate grazie vai 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 tira 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 brava wow sembrano dei rossacchi vai il prossimo mario gore cosa sarà no 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 questo è mio questo è sicuramente mio il diario di pikachu il diario di pikachu il diario di pikachu wow delle macite colorate sono i pezzarelli che voleva tanto usata insieme linda insieme linda grazie bello grazie per la mia nipotina più piccola il bene più grande auguri per il tuo compleanno dai nonni Pasquale Fernanda che cos'è che cos'è? che cos'è? l'acqua dei genetri fa lì vedere che cos'è? che cos'è? l'acqua dei genetri fatti vedere auguri già da da lui cucchi 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 scatta la carta scatta la carta scatta la carta che bello nooo grazie è magnifico spero che hai scritto rosso uguale scatta la carta 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 wow belle chiudo di legno grazie secondo orologio è una sveglia che bella e l'ultimo scatta la carta 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 grazie 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 allora dato che avete fatto tantissimi regali alla nostra amica Gianni guarda anche noi abbiamo un regalo per voi seguitevi andiamo 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 e andiamo 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 andiamo